Ciao, sono Ambroglio Ferrari di MTV Italia, siamo qui al Museo di Palazzo della Penna per un evento Brand New Art. Brand New Art è un evento che MTV sta portando in giro per l'Italia insieme a Ceres, portando la musica migliore degli eventi di MTV nei musei più interessanti di arte contemporanea italiana. L'idea è nata dalla volontà di contattare un pubblico un po' più ampio, portando una proposta culturale che dia contenuti e porta i giovani a vivere un'esperienza all'interno dei musei, che è una cosa che fa molto piacere a MTV fare perché il portato che possiamo dare rispetto a questi eventi è appunto far vivere un'esperienza all'interno dei musei, e fargli vivere il fatto che il museo è una bella cosa da vivere e lo facciamo tramite la musica e col supporto di Ceres. Questa è la seconda data del tour, le prossime date saranno ancora da definire, però in sostanza sono state definite le città, andremo a Bologna, Roma, Catania, Firenze e chiusura a Napoli con l'evento di chiusura di un tour che ci vedrà per tutto l'anno in giro nei migliori musei di arte contemporanea italiana. Tutte le informazioni si possono trovare su www.mtv.it slash brand new art